apriamo questo mese di giugno con monica mai con la nostra rubrica mai dire dieta ciao monica ciao cri buongiorno a tutti allora primo di giugno mese nuovo di che cosa mi parli oggi oggi ti parlo della giornata mondiale dell'ambiente che ci sarà il 5 di giugno perfetto come possiamo coniugare queste due cose l'alimentazione e l'ambiente in realtà sono interconnessi perché quello che noi mangiamo che è una di attività che contribuiscono al cambiamento climatico del nostro del nostro pianeta è estremamente importante perché quello che io mangio la qualità la quantità del cibo e la tipologia del tipo del cibo scusami possono in qualche modo influire la nostra salute non solo ma anche soprattutto il nostro ambiente che è un po la nostra mamma è dove viviamo è una casa più allargata esatto allora come affrontare questo argomento così vasto sì e ti porto dei dati che non sono miei ma sono del WWF pensa che una famiglia media può risparmiare sino a pensa mille chili di anidride carbonica l'anno ti porto due esempi il trasporto per via aerea quindi quando noi magari acquistiamo del cibo che non è locale di un chilo di mele cilene ad esempio produce circa 18,3 kg di anidride carbonica e consuma quasi sei chili di petrolio per un chilo di chiwi della nuova zelanda noi emettiamo 24,7 kg di anidride carbonica e consumiamo quasi 8 kg di petrolio quindi pensa accidenti bisogna sensibilizzare le persone su questi dati perché a questo punto davvero vale la pena di dire mangiamo il cibo che abbiamo sotto casa insomma certamente perché il risparmio energetico a tavola è una risposta ai cambiamenti climatici cioè noi possiamo fare qualcosa non solo avendo buone abitudini negli stili di vita ma anche su quello che mangiamo in quello che mangiamo infatti perché si è andata a sensibilizzarsi è la la tematica perché sempre più persone nel nostro pianeta richiedono dei prodotti freschi magari anche bio e prodotti nel territorio in cui si vive per cui non devono percorrere grandi distanze con mezzi di trasporto per arrivare a noi è vero è vero anche perché la globalizzazione ha portato sulle nostre tavole cibi provenienti dalle più lontane zone del mondo e questo da un punto di vista nutrizionale anche buono perché abbiamo scoperto dei cibi che non conoscevamo alcuni pensa le bacche di goge ad alto potere antiossidante però il fatto di trasportarle io ho fatto l'esempio del cile della nuova zelanda da paesi così lontani contribuiscono non solo e anche all'inquinamento ma anche a quello che è la modificazione dell'ambiente intorno a noi ci sono però dei suggerimenti che noi possiamo delle regole che noi possiamo applicare a tavola per esempio pensa il poter bere l'acqua sempre del rubinetto che è un'acqua molto controllata qui risparmieremo in bottiglie di plastica perché non tutti hanno la fortuna o la possibilità di acquistare le bottiglie di vetro in più tiene presente che la plastica spesso rilascia delle sostanze che vanno a interferire cosiddetti interferenti endocrini che interferiscono con il nostro sistema endocrino e sono causa di parecchie patologie ancora un'altra regola potrebbe essere quella di acquistare prodotti locali che non hanno necessità di grossi trasferimenti su ruote o aereo quindi i prodotti cosiddetti a chilometro zero. Sì scusa adesso mi venivano in mente due prodotti che tu hai citato i kiwi e le bacche di goji le bacche di goji so che già anche alcuni produttori in Italia stanno iniziando a produrle e i kiwi insomma noi siamo i maggiori produttori di kiwi. Assolutamente sì anche la nostra zona infatti io ti ho portato quell'esempio perché in realtà è vero che è un prodotto della Nuova Zelanda però anche il nostro territorio è un ottimo produttore di kiwi. Io tra i consigli che mi sento di dare anche quello di rispettare la stagionalità del pesce si dice frutta e verdura ed è verissimo ma pensa che anche i nostri mari hanno necessità di essere ripopolati quindi esiste proprio un calendario come quello di frutta e verdura privilegiare i cibi biologici perché hanno un metodo di cultura non inquinante ridurre gli sprechi alimentari ma anche magari acquistando dei prodotti con poco scarto. Certo e questo è molto importante e quindi insomma io spero che questo il nostro verbo venga diffuso più che mai e che le persone vengano sensibilizzate il più possibile da questa cosa. Speriamo davvero. Grazie Monica per il tuo contributo. Alla prossima. Grazie a voi e buona giornata dell'ambiente.